A livello di intelligenza artificiale si studia soprattutto da tempo e si cercano rimedi al fatto che l'intelligenza artificiale è nata fortemente discriminatoria, molti modelli algoritmici, proprio nei confronti delle donne. Perché? Perché la maggior parte dei programmatori sono uomini e perché l'intelligenza artificiale immette nei sistemi algoritmici quello che è una realtà sociale che è ancora una realtà che penalizza fortemente le donne, piena di stereotipi soprattutto nei confronti del genere e di conseguenza tutta questa realtà discriminatoria immettendosi negli algoritmi senza alcun tipo di controllo crea algoritmi che impattano negativamente sul genere. Chiedono agli algoritmi di sviluppare dei controlli sull'impatto sociale, l'impatto sugli diritti umani degli algoritmi stessi. L'algoritmo non discrimini, per cui deve essere un algoritmo trasparente, diciamo, fatto con, di cui si possano studiare i vari processi e che possa essere eventualmente corretto. Ha le possibilità, le potenzialità che ha la realtà virtuale di sviluppare degli atteggiamenti prosociali, inclusivi ed empatici nei confronti di situazioni di bias, di stereotipi o addirittura di violenze legate alla discriminazione di genere, alla discriminazione etnica, alla discriminazione nei confronti delle disabilità, alla discriminazione nei confronti di soggetti ristretti in situazioni carcerarie. Tutto questo perché? Perché è importante sviluppare una riflessione critica intorno a queste nuove tecnologie. La tecnologia non è di per sé neutra. Non bisogna essere né tecnofobici né tecnoentusiasti, bisogna sviluppare una riflessione critica che riguardi, cioè, le potenzialità, i limiti e i rischi di queste nuove tecnologie.